Le mani come l'anima, no? E' un pregano. Quindi questa è mettere così, è un pregano. Anche il metodo confusale, io dico il tumbo, il rumore. E questa, come ho detto, è un concetto. Un pregano. E' diventato come tumba. La prima tumba. Un po' chiamare tumba. Però se ti dissi la tumba, la tu dissi. Però secondo me, io dico, questa tumba, no? E se si è preso tumba, non è così, è tumba. palme, 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 tu vivi. Tu vivi parte più little di. Anche tu vivi termini come tutto. Allora siamo nel sangue We are here for reso. Grazie a tutti.